Bella ragazze e ragazze, se per caso volete aggiungermi come supporto a un creatore su Fortnite per supportarmi indirettamente, basterà andare su Item Shop, Supporto un creatore e scrivere il nome di Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Ovviamente ragazzi ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi. Buona visione. Ci sono anche un pampi di più se in caso vieni qua. E poi adesso non è più rosso, che cuore è piano. Un tipo, sì. Vabbè per me sarà sempre rosso. XD Io un tattico verde per te in caso. Fascine. Sì? Ok, già do una mitraglietta e c'è uno sotto. C'è gente che metta la misa. Anche dove non c'è la neve. Ok. Scusa, è fatto male. Poi sono, lo so, sono due squadini per te, te li lascio. Ah, bene qua. Vabbè. Ancora ce ne sono un sacco qui, eh. C'ho fatto una live, è strano. Molto strano. E quelli qua, quelli qua. Due dieci, due dieci. Beh l'ho visto. C'è l'altro? Ah, che mi vuole sparare a me di eagle. Sparare a me di eagle. Cado? Mi carica adesso. Uno lì dentro, eh? Cado? What? Perché mi devono guampar tutti a me? Non lo so. Però ci ho fatto caso, sì. Tu l'hai todi, bazooka, però? Sì, perché io ho fatto un hit ed è morto. Sì, sì. Ho trovato 100 e passa. Ok. Vuoi scudini o li hai? Eh, no, non li ho. Ho una penda. Sono proprio all'aglio. Sto a medikit. Sì. Medikit. Un po' di roba. Uno scar, se lo vuoi. Guardate il gioco di AK. Scuscu. Che zenetto è del battle pass, ragazze. Vi devo dire che è veramente bello. Oh, prendiamo sto aereo? Sì, vai, andiamo. Voliamo. Vai. Dio, che cosa è trovato. Andiamo a dove? Se li troviamo io mi butto fuori dall'aereo, no? Se vedi qualcuno... Io se mi butto ce l'ho al deltaplano, sì? Sì, 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 sì. Sotto di noi, sotto di noi col palloncino. Sta, giro del testo in giù. Se riesci. Eccolo. Mi rigiro. Io niente. Non lo so. È matto. Dici. Sì, 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 dai, dai, dai. Vai, buttati. Non so dove sono, quindi seguo te. Non ho faccio... Aia. Sei di vita? Busci quello fra il bazooka? No, guascio. Mamma mia. È il suo amico? Eh... Io ho capito cosa sia il suo amico. Sì è noccato da solo. Buttato giù? No, no, sei noccato di bazooka. Cioè, sei proprio noccato. Ah. Sei fatto male. Infatti c'è il bazooka suo qua. Belli sti fail. Povero. Ti facevo quando ho iniziato a giocare forte. Vorazzo. Vabbè. Dai, almeno. Ma che player lo stiamo beccando. Comunque sta cosa che si può sparare dagli aerei è troppo bella. Sì, è bellissimo. Immagino che ti squadra. Ti dà un botto di patto, Fid. Eh? Immagino che ti squadra il casino. Madonna. A volte se sparano in tre e un aereo ci vogliono due secondi a buttarlo giù. Sì, sì, quello sì. Quello è vero. Quello è vero. Ma non si è distrutto? Ah! Che sberla che mi ha dato questo? No, 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 no. Non rompere le palle. Io l'ho dato pure la spela, però. Sì, 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 sì. Mi servono solo bende. Ce l'ha. Ah, specco. Buono, buono, buono. Prendiamo l'aereo. Mi sparano anche da su... Ah, li vedo. Sono anche a sud-ovest. Ma sono proprio alti, alti, alti sulla montagna. Quella di ghiaccio? Sì. Il fatto è che devono prendere la funivia. Cioè, devono scendere. Quindi o li aspettiamo tipo qua in safe. O a bordo safe. Questi sono free kills proprio. Dovrei diminuire la strecciata, perché da lontano vedo i pixel. Eccoli. Non cado o no? Eh, quello che sta fuori dalla safe, io ho fatto 31 blow. Eh, questi entrano tanto da dietro la montagna. Passeranno là dietro proprio per andare in safe. Eccolo. Non c'è più. Tutti morti. Sono bassi, eh? Io mi trovo bene con la 1.6. Perché almeno il pallino... Il pallino mi rimane. Penso che anche con 1.6 rimane. Una è sotto. Ma dove? Fatto. Mi sparano da nord. Quindi sì. Dalla montagna, per come su mo' siano. Madonna, sti qua hanno doppio check-in, attento. C'è Staurift. Staurift? Allora, sai che ti dico. Ricarico le armi e andiamo proprio sopra. Arrivo. Quando vuoi? Me la prenderà questi subiti bibbi. Ah, ma lì sta pure. Ah, qua a nord. Ah, qua pure ci stanno gli ari. Eh sì, infatti, infatti. Dicevo che... Andiamo proprio in cima. Una che ci prendiamo la ground. Ah, va bene. L'ho sbagliato, quello. Uno l'ho trappato? Eh. Uno sta salito dalla montagna. E... L'ha serato male. Uno mi spara dall'altra montagna, quella a 250. Ok. La scatta di 20 bombe è il top. È scipito per domani. Easy. Dov'è che hai trappato il tipo? Ehm... Il tipo qua. Oh, tff... Ah, stanno buscendo sulla montagna. Prendiamo il grande subito, prima che vengono loro. Ah, qua è? Ma cato. Ci sono scudini qua? Poi è bene, giusto? Eh, no. Ah. L'ho lasciato per le scinti. Semmai ho i campari, no? Piccoli bibbi... Prendo la funiglia, va. Oh, eccoli qua. Rift o no, ovest? Però è uno. Quante kill hai? 17. Mi servono tre, però... Eh, fatto, fatto. Dai, però non mi prende, regolando così, però... C'è un check check, vai, fatto con tu. Ah, eccoli! Sono a ovest. Quello sopra è morto, ok. Ok, metti il launch, qual ce l'hai? Ehm, ce n'ho tre. Vai, mettine una. Dove vuoi? Cosa sei? Ah, cacchio. Non è quello. Lo sta restando, ok. C'ho appena c'ho 30 trappole, bel launch pad, 39 turrette. 20 bombs, si arriva boys. Dammi le 20 bombs, bro, io che zitek. Una vuoi. Ah, dimenti. Ehm,... Grazie a tutti